buongiorno amici questa oggi facciamo la nostra storia di star wars ieri abbiamo fatto un video che abbiamo detto che abbiamo fatto nell'altro giorno che facciamo il video di star wars e se non hai visto se non hai visto l'altro vai a vedere vedere e poi sopra questo video e poi metti anche un like ok adesso dobbiamo cominciare allora allora un attimo un attimo e questo mio notte di marco questo che spawn allora adesso dammi quello la mia piccola lilla andiamo via andiamo dalla nostra stanza cinese cinese pazzi allora adesso il mio personaggio allora un attimo un attimo mi serve allora allora prendiamo una sedia per poggiare il telefono adesso allora buongiorno ok allora andiamo dai nostri amici marco andiamo con il canone super canone di plasma e tremida allora allora andiamo allora quello che ho sentito adesso marco ha solo gritato e era niente io ho pensato che era che era andato via marco e hanno preso i cattivi da lui io metto di nuovo il mio plasma allora allora ma che dormiti ma loro dormono allora regati il capo è qua voi siete stupidi ma quello non diciamo mai loro sono stupidi voi no vabbè voi siete bravissimi e poi ancora conoscete conoscete marco lui è inglese i miei video io faccio un forse un forse un forse un forse un forse un forse un italiano video video e si e se siete anche inglese vedete i suoi video sempre e mettate un like da mangiare mai ok mia scrivete gabelfonzo e poi facciate un like perché puoi se allora si chiama così g a b m i e l e poi e poi adesso iniziamo ok allora marco 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 ma aiuta a che mamma mia che fate la loro stupidi guardate guardate anche i cattivi sono tormentati guardate ma che fai guardate 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 un minuto per favore no no e non prende il mio video allora qua così qua così qua qua così allora così questo così lui è il bosco allora e lui e marco era sopra e qua poi è così il vero bosco di sempre il scheletino margherino più 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 ma che sono morti sa più si vengono più il big boss morto allora dai ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo allora adesso sono tutti fatti morti adesso tutti fatti morti vedete adesso 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 il big boss è morto marco 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 allora adesso lo sappiamo io sono un po' così e lui è cinese pazzo lo sapete che le aquile sono dei mostri allora qua dobbiamo guarda là sono già due morti qua è morto con la pistola è morto 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 vi vado a casa mamma mia pizzeria caccaria e l'ultimo capri non dobbiamo dormire io sono marco capatto amato questo è la svizzera sei da napoli o da america eh no marco o dall'italia dicete da me dicete quale numero è il tuo casa casa numero quanti anni sei dici anche quanto quanto in quale mondo in quale mondo vivi tu ok sì allora in svizzera dove noi siamo noi siamo in svizzera ma noi possiamo anche in italiano e in inglese lui può un pochissimo bene ma un poco no io posso bene perché mia mamma venne di america e io posso bene in italiano perché mio papà era è venuto dal napoli napoli avete mai visto un 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 il pallone calcio di napoli di napoli napoli contro juve dicete o o e dici a juve questo juve cacca cacchissima un coso cacca che non mi piace e poi e dicete avete visto quello con il pallone e poi dicete sì o no ok ok ciao amici mettete un like